Seguite le regole del canale esatto Cioè Bubi che è triggerato Non so da cosa, non so da chi Cioè non so perché Chi è L con Bubba? Non ci sono arrivato Speravo di sì onestamente Peccato Bubi triggerato da Bubba Eh L'ho voluto provare, è stato un bel po' rischi ma Ce ne sono qua That's not good È direttamente nel messaggio Quando stai scrivendo la prima volta credo Per questo Al limite è Bubba Che deve scappare da Bubi Non sono convinto Può essere onesto Mi spiace Spitfire Non so se qua è la finestra Non c'è ancora Non ci sono davvero arrivato Pure con lo speed Ok adesso abbiamo Speedfire Enduring Questa è un pallet in testa La tiriamo giù Ci stiamo mangiando tutti i pallet Alla fine Sempre così con Bubba Dovrebbe bastarci Mi hanno perso tanto tempo E sono un po' in mezzo No c'è uno con la flash libero Oh merda Ho anche visto Oggi sta veramente andando in merda Ciao Fede Riproviamoci A mille follower su Instagram Giveaway del topo spillo Vero? Vero grazie a che me l'hai ricordato Ragazzuoli Ricordate mille follower su Instagram Facciamo giveaway di un topo spillo Quindi mi raccomando Se volete Sapete dove andare Mi sta uccidendo sull'uncino Mag Non so perché non sono andato di Ma aveva ancora l'endron Ho visto il sangue tutto spreato in faccia Non off the record Perché sento che è ferita Sono fatti a mano più I famaki What? È la torcia di qualcuno quella? Ho visto un faro nel nulla Grosso come una casa Io sono in due qua Ti bag a caso Mi parte il ceso Possibilmente Voltec Betata Stando fermo Due gen però Madonna se mi stanno già lasciando velocemente Con questi game C'ho davvero fatica a chiudere velocemente Un chase E ne approfittano fino al midollo Stanno giocando bene comunque Ok eccola lì Ancora il TL Vabbè Xei Buonasera Come stai? Il 13 mi danno 1.800k di recenti Eh ci sta Ora sono approdato anche su Twitch Non su TikTok Ciao Christian Benvenuto Dai E mi fa piacere che passate anche di qua su Twitch Anche perché ricordate ragazzi Che su Twitch avete un po' più di vantaggi Perché abbiamo un po' più di cose Anche proprio per Twitch Dato che comunque come canale È nato per Twitch questo Quindi Punti canale C'è tra tutte queste cose qua Bambolina gratis Esatto Non credo che abbiano più altre torce Al momento Manca già un gen Ma quanto sta 50% Non voglio iniziare un chase in shock Assolutamente Non so come recuperarlo Sono già nello 0 Quello è lì Quello è là Adesso si metteranno qualcuno sui gen Almeno uno c'è già probabilmente sui generatori Tanto vale che inizi un chase Vorrei arrivare Non so se sbaglia il timing Il timing è difficile contro Bubba Devi saperlo infatti Pochi riescono a fare il timing preciso contro Bubba C'è un punto specifico in cui lo devi fare Durante l'animazione Quando stai rialzando la motosega Ma è comunque tipo un frame Che hai Una roba del genere È veramente poco il tempo Vorrei sapere dove sono gli altri So che due erano lì A fare A curarsi Devo controllare quel gen però No è ancora poco Troppo indietro Anche solo per avvicinarmi Non ha senso controllarlo Fino in fondo So che sono ancora due lì C'è uno qua ora C'è dal basement Può essere Non ci ho fatto caso A questo punto Mi prendo una kill Sono due in giro Ce n'è sempre uno Che mi sa l'appello Che è probabilmente Su un generatore Mi prendo almeno una kill Intanto Non dovrebbe riuscire A arrivare in tempo Dai sul serio Oh what Non mi ha stunnato Mi ha cringiato troppo Che non mi ha stunnato E non la prendo Dai Oh mio dio Non ci voglio credere Queste cose Che quando succedono Che tipo Sono straforti Non riesce a capire una sega Ma adesso Per finire il gen Probabilmente Cerca di tenermi Fino all'ultima possibile Bubba è best Per il campo Quello assolutamente Assolutamente Bubba Se vuoi camperarti Una kill Te la puoi prendere Sempre questo Non so se è dead o nook Non so se c'è qualcuno Stiamo facendo quello Alla fine Abbiamo porta Oh questo è andato di qua Vero Ho visto gli scratch Per un secondo Si Oh salve Straghiamo E proviamo ad andare Per la 4k Per la 4k Dai Magari almeno 3k Ok Dovrei arrivarci Sì Ora con la In realtà Con l'anticamping Ancora Secondo me Ma hanno sempre il timing Spero Non hanno un breakable Gioco Considerando che Magari non hanno un breakable E riesco a prendermi Una 4k Perché se non c'è Non è una 4k qua Che non c'è più pallet GG Dai Domani siamo Alla via la 17 Esatto Esatto Grazie Deve averlo ricordato Basta non stare troppo vicino In teoria Sì ma Bubba Tanto anche se Ti tiri giù Accendi la motosega E lo riammazzi Capito Cioè gli cambia Veramente poco Bubba Che te vettura Fai la tua cpu In game Oh sì Non te lo saprei dire esattamente Con precisione Non l'ho mai Tenuto sotto controllo Più di tanto Ma ce l'ho in realtà Un programma Per guardare Adesso te lo dico Aspetta Tanto non trovo Quello per terra Mi conosco Non lo trovo Vabbè dai lo cerco Un attimo Ciao Checca Buonasera Come stai Caro Intesale Abbiamo Non è ancora finito Il game Oh Trovata Come vanno In realtà Non troppo bene Dove essere Ness oggi Oggi Non troppo bene Però Non mi lamento A parte il primo Ho perso Gli altri pareggi Comunque E questo vinto Allora Vediamo se trovo Il programmino Era Desktop Adesso Te lo dico subito Ops Sneak mezza istante Prima di trovare il server Allora Ho capito Però La mia cpu La mia cpu Ok Mi dice La temperatura Mi dice La cpu Se vuoi quanto Ho di temperatura 70 gradi La cpu Non me lo dice Non so perché Dio La cpu La cpu La cpu La cpu La cpu